Pompivo 16 anni a un'ora della sera, la prima volta che conobbi la galera. Di me la gente pensa che sono una di quelle, perché non ho un marito e vendo la mia pelle. Provate a domandare che cosa ho dentro il cuore a chi con me ha voluto un giorno far l'amore. Ditelo alle signore che campano tranquille, con un bel conto in banca e a fianco un imbecille. E a lei che si concede da buona donna pia ad un marito grasso che odia alla follia. Ditelo a chi si sposa solo per sistemarsi e senza alcun piacere continuerà a sfogliarsi. Per voi signore belle che fate il terzo aborto, io sono una di quelle e mi guardate storto. Voi dite con disprezzo, non è una donna onesta, almeno io parlo chiaro, la mia tariffa è questa. Io do tutto l'amore al primo che mi vede, ho per marito il mondo, per letto il marciapiede. E non voglio crepare con tanti figli intorno, in un letto finto inglese, tre camere e soggiorno. Voglio morire insieme agli anni miei più belli, con la pazzia nel cuore e il vento tra i capelli. Ne ho fatte proprio tante, che quasi quasi scoppio, però se un dì rinasco, giuro di farne il doppio. Poi mi presenteranno agli angeli e al Signore, e mi giudicheranno colpevole d'amore. Grazie.